Condifesa Piacenza ha celebrato 50 anni a servizio degli agricoltori del territorio attraverso un evento incentrato sulle tematiche riguardanti il cambiamento climatico e la gestione dei rischi legati ad esso. Innovazione e sostegno al reddito delle imprese agricole sono le parole d'ordine in vista delle sfide del futuro. Le prossime sfide sono tante, ma tengo a sottolinearne una che è quella del trasferimento di conoscenza. I nostri agricoltori, le nostre imprese devono sempre di più diventare resilienti devono sempre di più imparare a misurare bene il rischio che hanno nelle loro aziende il clima in questo senso non ci aiuta ma ci mette in difficoltà con l'applicazione, l'analisi e gli strumenti che mettiamo a disposizione come consorzio le imprese agricole possono avere un aiuto. Un quarto del PIL nel nostro paese è dato dall'agricoltura agroalimentare e tutte le attività a monte e a valle che genera. Ovviamente per quello che ci riguarda noi dobbiamo tutelare questo agroalimentare dalla parte della gestione dei rischi dei cambiamenti climatici quindi dobbiamo mettere in campo tutta l'innovazione possibile per dare prodotti assicurativi sempre più performanti partire con questo nuovo strumento che si chiama Agrigatte che darà una risposta sugli eventi catastrofali a tutte le 700.000 imprese italiane quindi su siccità, alluvione e gelo comunque tutte le imprese italiane dal 1 gennaio 2023 avranno una risposta anche senza assicurarsi perché parte questo fondo mutualistico nazionale che le coinvolge direttamente tutte quante. Leggere il cambiamento climatico che gli scienziati descrivono però noi dobbiamo leggerlo nell'impatto economico dell'impresa e trovare delle forme di risk management complete che passino dalla conoscenza alla strategia a una difesa attiva che riduca l'impatto dei cambiamenti climatici e in ultima stanza grazie a tutti i contributi che ci sono nell'ambito della gestione del rischio trovare delle forme per trasferire le parti di rischio che non si può gestire diversamente per l'impresa agricola garantendo una continuità di reddito e quindi la sopravvivenza e la reddittività dell'impresa. Condifesa Piacenza riunisce oltre 1800 soci e da mezzo secolo si occupa di gestione del rischio atmosferico proteggendo il reddito delle aziende attraverso polizze collettive siglate con le maggiori compagnie assicurative.